Ciao a tutti, Follettini e Follettini, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono vestita in un ugual modo del video precedente perché ho fatto il video lo stesso giorno, su uno dopo l'altro e quindi sono vestita allo stesso modo per quello. Non so quale vedrete prima, se è prima quello o dopo questo. Non so ancora, sinceramente. Mi sono arrivati questi due pacchetti da una signora dolcissima che ha un canale YouTube che si chiama Girasole Rosse, se non sbaglio. Vi lascerò i link del suo canale giù nell'info box, ma li è presi dalla mia lista Amazon. E adesso andremo a vedere cosa sono. Io ho già aperti per praticità, come mi avete sempre detto. Lo iniziamo da questo, che c'è la letterina, solita di Amazon, che manda quando faccio un regalo. Allora, grazie per l'acquisto. Ok. Qui non c'è niente, c'è soltanto il dirittino dell'acquisto. Bene. Adesso andiamo ad aprire questa bellissima busta. Un messaggio d'augurio da Assunta Floris. Grazie, Assunta. Un bacione. Ciao, tesoro. Con vero cuore ti mando questo regalo. Ti arriverà anche l'altro. Ti voglio bene e ti seguo con piacere. Sempre da Girasole Rosa. Ossia, Rosi. Un bacione. Salutami. Volentieri ti saluto, Rosi. Un bacione. Grazie mille. Allora, questo lo mettiamo qui. Apriamo. Queste bustine ho tenuto anche quelle della macchinetta del caffè, perché sono troppo favolose. Potrei disciplinare, non si sa mai. Ok. Sono stupende. Perché mi sa che questo è il pezzo forte da quello che mi aveva raccontato per e-mail. Oh mio Dio. Qua ci sono sempre i bigliettini. Vediamo un po'. Spero tu guarisca il mio piccolo pensiero, Follettina, sei grande. Ti adoro e ti seguo sempre. Brava, amore. Aspetto il tuo video con ansia. Ti voglio bene da Girasole Rosa. Ovvero, Rosi. Grazie mille, Rosi. Eccoti il video. Oh, questo è il place del Napoli, Follettine e Follettine. Ma è stupendo. Oddio, questo devo assolutamente tirarlo fuori se riesco. Questo ormai non va più adesso, ma il prossimo inverno sarà la mia nuova copertina quando sto al PC. E voilà, madonna. Aspettate, questo lo mettiamo qui. È bellissimo, guardate. No, adesso posso anche morire. Guardate, guardate. È stupendo, Follettine e Follettine. E poi è morbido. Grazie mille, Rosi. Che dire, Follettine e Follettine. Queste due cosine me le hanno mandato i Rosi del Girasole Rosa. Io ti ringrazio, Rosi. Ti mando un grosso bacione. Mi linko i link del suo canale YouTube giù nell'info box. Andate a darci un'occhiata perché fa dei video veramente bellini. Che dire? Se questo video vi è piaciuto mettete un gran mi piace. Iscrivetevi al mio canale. Condividete i miei video su tutti i vostri social, con tutti i vostri amici e amiche. Iscrivetevi alla mia pagina Facebook Follettine Creation. Attivate la campanellina di YouTube dei miei video per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Vi mando un grosso bacione. Grazie ancora per i 40.000 iscritti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!